Evviva! Da dove viene? Urzikstan. Vedi, vanno a Est. Probabilmente ad Almazra. Se la portano là, la perderemo. La portano là, la portano là. Capitano, puoi farla. È ora. Ok, atterriamo. Nick, il convoglio è stato demiato. Ricevuto. Siamo sulla zona da terraggere. Bene, fanno atterrare, Nick. Gas, tu resti in elicottero e ci copri. Noi andiamo in prima linea. Ricevuto. Svoltiamoli un po'. Ci riprenderemo l'Aswell. Ehi, vecchio! Spara! Grazie per l'aiuto. I tuoi nemici sono i miei. È un'amica in difficoltà. Le unità! Ti muoviamo! Ricevuto! Ok, Nick! Via libera! A tutti. Ci chiamo. Check radio. Riccevuto. Check. Quale veicolo si trova? Alcatala la tiene nel SUV nero. Quasi in testa al convoglio. Prima attacchiamo i mezzi di scorta. Poi salviamo l'Aswell prima che arrivino al confine. Occhio a dove spari. Ci sono civili sull'autostrada. Capitano, siamo a portata. A tutti. Fuoco a volontà. Spondati. Avanzare! E adesso sanno che ci siamo. Disistemati. Avanzare! E tu le zine. Vado un chamele. Aiuto! 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 Due camion più avanti. Contatto visivo! Mancava fare. Il bastardo è fuorizzato. Pira la testa per sempre. Via libera. Vai i corpi. Merda! Allarme a cazzo missile. Non puoi comparare! Quanti in più! Lanciatore eliminato. Porca puttana. Avanzi! Ho più a dove spari sul pick-up. Uno dei nostri è a bordo. Disfoltisco un po' ufana. Come hai vecchi tenti, Capitano. Trattati! Al prossimo veicolo! Porca puttana! Alcantara! Alcantara! Due bagunzi avanti! Ci tengono sottotiro! Gli stronti sono corazzati! Il spiegamento contro il giù! Niente attento! Prenditi! Gli stronti sono corpiti! Gli stronti sono corpiti! Capito! Porca troia! Come sei messo? Capitano, gas è caduto! Cosa è dentro? Il sergente è andato! Non sono morto, Nick! Sono appeso a una corda! Porca puttana! Sali! Sali! Mi sto provando! Lancia un amato! Cazzo cazzo! Grazie, nozione! Adesso ho da fare, Capitano! 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 Non posso! Posso salire ancora! Dovrai tagliare l'opune! Sono libero! Capitano! Torna a combattere, sergente! Convoglio! Io ti allontana! Dobbiamo avanzare di più! Torna a combattere, sergente! Convoglio! Io ti allontana! Dobbiamo avanzare di più! A tutti! Ho preso un veicolo! Convoglio ancora in vista! Affermativo, Gas! Ammazzale più che puoi e raggiungi l'aswell! Conta pure sui miei soldati, sergente! Ok! Voi invece dove siete? Vi raggiungiamo! Sei chiudo! Grazie a tutti! Su avanti c'è un camion verde! Sono incontrati, ripara! Sì! Li vedo! Merda! Erano gli uomini, ripara! Non se vanno i rischi! Contro di tu un nemico e salvala! Nick, che cosa vedi? Vitragliatrice recente! Sì! Sì! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Va avanti. Noi ti stiamo dietro. Gun, Nick. I miei segnalano un blocco stradale di Alcatraz. Lo fermo. Lo vedo. Dovrai buttarlo giù con la forza. Fondalo. Uccidile più che puoi. Non mi fermerò. Mi è andata male. Nick, sono passato. Ok. Attenzione, c'è un problema più avanti. Che cazzo succede qui? Alcatraz sta minando l'intera autostrada. Questi sono civili, Nick. Alcatraz la deve bruciare. Io porterò i fiammiferi. Vine più avanti, sergente. Da dove vengono queste mine? Al camion che ti prevede. Alla direzione! Merda! Oh Colpiscono i civili Si avvicini al camion con le mine Un fermato Mine sistemate A tutti potete aggiornarmi Non sparare sergente, non sparare Sto passando su un camion dietro di te Blocco appena superato Gas Capitano Rinforziti Alcatara Ti serve più potenza di fuoco Vieni sergente, andiamo Per fortuna sei ancora intero Prendi il lanciagranate Sergente, il lanciagranate è tuo Prendilo Gas Il lanciagranate Prendilo Accelera, sergente Oddio Laswell Bene capitano Gli ordini? Tanto che ci avviciniamo a Laswell Cambiano tattica E come? Prima li inseguivamo Ora ci seguono loro Che ci provino Voglio vederli Dietro È Fara Ci siamo Muoviamoci Capitano Quelli di Alcatara stanno tornando Vogliono intrappolarsi Ci pensiamo noi Arrivano Fara Occhio Gas Attacca con il lanciatore Ok Ci sono Colpo diretto Bel colpo Mitragliate chi c'è? Ocati Fuoco su quella mitragliatrice Bastardo ucciso Ottimo lavoro Capitano Il convoglio gira a sinistra E' un'ascostatoia per i confine Ok Nick Taglia il conto Le vostre spade All'attacco Fara Sta vicino Si fiamolo Via libera dietro Nick Riesci a vedere il veicolo di Laswell? Affermativo capitano Insieme a molte forze di Alcatara Tieni ladd'occhio Nick Sei Chiudo Laswell sarà protetta dai loro soldati migliori Ci stiamo avvicinando Dobbiamo allargarci Gas Prendi un veicolo Colpiremo da ogni possibile direzione Prendi un altro veicolo Gas Dobbiamo allargarci L'azza è della sergente Oddio L'azza Prendi un altro veicolo Prendi un altro veicolo Prendi un altro veicolo Danni un altro veicolo Sulle Chiude Surgite Prendi Nerva Quat La Il stile nemico, verso di te, sergente! Ti sta puntando, gas! Abbattilo, sergente! È a terra, avanti! A tutti! Al-Qatala sta schierando dei droni bomba! Ricevuto, Sonic! Dove prendono i droni bomba? Dal Maggiore Assan! Ghezionudin Tipu! Anabelle Bissama! Aiuta, Al-Qoedo! Eccoli, lassù! Distruggiamoli subito! Possiamo volerli! Sergente, trovaci un altro veicolo! Ghez, sei ve... Ghez, il trono del drone è sul retro del camion! Fallo fuori! Trono del drone è sul tisolo! Attenzione! Corazzato nemico più avanti! Non siamo equipaggiati per distruggere un corazzato! Avvicinati! Appena sei pronto, io tiro il fuoco per farti salire! Ricevuto! Muoviti, gas! Non farti sparare addosso! Sergente! Devi avvicinarti al corazzato! In posizione! Ok, sta pronto! Ora, Sergente! Sali sul corazzato! Grazie a una carica e fatene via, Sergente! Carica attiva! A sinistra! Soltà! È fatto! Ricevuto! Capitano, siamo quasi al confine! Ok, Nicolai, bloccani con l'elicottero! Subito, Capitano! Contatto! Occhio a dove sparate! Larswell e Nicolai sono davanti a noi! Ricevuto! Larswell, su nero! Buon! Soltà! L'amore! Soltà! Certo! Soltà! Soltà! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Pare che stasera ci saranno tutti i VIP di La Salmas qui. Alcuni invitati, altri... Sollicitati? Sì. Di che parleranno? Non so, Trus. La Salmas è in fiamme. Vogliono sapere chi è stato. Sin nombre ci sarà, vero? Non ne ho idea. Ma è la nostra occasione. Cogliamola. Coi miei shadow potrei prendermi tutto il paese. Io preferirei di no. Intendo dire che una villa non è un problema. E il sin nombre ci serve vivo. Allora... Dobbiamo incontrarlo. Come? Sapere chi siamo, diciamoglielo. Di persona? Corretto. Uno di noi entra, trova il boss e lo prende. Vado io. Se entri lì dentro sei morto, hermano. Correrò a questo rischio. Siamo venuti qui per fermare un missile e allora fermiamolo. Informazioni in cambio del sin nombre. E se è lì, lo colpiamo. Orale. Tiene su, Evo Scabron. Ma là dentro ti servirà una mano. Vengo anch'io. Io darò copertura. Shadow sarà in zona con un elicottero. Ci sto. E vorranno delle prove. Tieni questa. Chiama se serve. Forza, mettiamoci al lavoro. Shadow in sorvolo. Ok. Tutto pronto. C'è spazio per atterrare sul tetto. Confermo. Due armati, ingresso principale. Alejandro, come procede? Un vaquero, dentro. Oh, cazzo. Come hai fatto? Con le cattive. Visuale su SOP. Ora della verità. Lo vedono? Adesso sì. Lo portano dentro. Alle palle. Spero ce la faccia. Germano. Alejandro. Come hai... Non ora. Senti. Dagli corda là dentro. Non mentire. Di quello che vogliono o non sopravvivrai. Devo dirgli tutto. Tutto. Forze speciali messicane, mercenari americani, Shadow Company, Philip Graves. Tutta la verità. Anche il tuo nome? È lui. Signor C. Hai un nome, gringo. Mi chiamano SOP. E che nome sarebbe SOP? Andiamo. Voglio vedere il sinnombre. Ah. Cerca il boss. Sei vivo solo perché potresti avere delle informazioni. O giuro che ti stacco quella testa di cazzo. Esci dal mio ascensore, cazzo. Questa è casa mia. Cammina! Vedrai il boss quando lo dico io. Tu parlerai solo se interpellato. Il omas è importante. direi la verità. Altrimenti finirai in pasto ai cani. Che cazzo stai facendo? Sono giorni che non dormo. Il boss ha detto niente droghe. Scusa, Diego. Mi serve per restare concentrato. Obedisci al cazzo di ordini! Il dolore ti farà ragionare. Torna al lavoro. La salma sei in guerra. Vuoi vincere? Non disobbedire. È così che l'organizzazione sopravvive. Ed è il motivo per cui il boss è qui. E il sinnombre è qui sotto? No. È solo la sua sicaria personale. Valeria. Un gringo. Un altro. Siediti. E questo chi è? Si chiama Sapone. È venuto lui. Sapone! Mi prendi per il culo! E l'hai fatto passare? Davvero? Ha delle informazioni. Stronzo di merda! Non abbiamo idea di chi sia e lui ci ha visto in faccia! Valeria. Abbiamo bisogno di informazioni. Può aiutarci. Spero che ne valga la pena, altrimenti... dopo aver ucciso questo stronzo su quella sedia ci finirai tu. è semplice. E' semplice. Io faccio le domande e voi dite la verità. Non dovete dirmi bugie. di recente stavamo proteggendo un amico sulle montagne. Qualcuno ci ha attaccati? Chi? C'era un gran caos. Non ho visto. Più forte! Non ti sento! Io credo sia stato il cartello dei rivali. Tocca a te, Blanchito. Chi ci ha attaccati? E' stato l'esercito messicano. Sta mentendo! Le mie truppe stavano affrontando gli aggressori! Ne sei proprio sicuro? Non è stato l'esercito, ma le forze speciali messicane. non è quello che hai detto prima. Alla prossima cazzata torni a casa a pezzettini. Se ne embargo abbiamo trovato i corpi. Fuersas especiales. Ora, perché uno straniero sa che erano... Forse era lì? Tu eri lì, stronzo. E forse c'era anche lui. C'erano degli stranieri con le forze speciali messicane. Chi erano? Li... Li abbiamo sentiti urlare. Non erano messicani. Erano con il gringo, come lui. Mercenari americani. Quelli della Shadow Company. Lo Svacheros stanno lavorando con i mercenari, stupido. Quei pezzi di merda. Ecco, visto! Avevo ragione! Sono stati gringo! Puoi provare l'esistenza di questa Shadow Company, idiota? Non posso dimostrarlo. E tu? Hai qualche prova? Controlla nella mia tasca. Che cos'è? Lo stemma della Shadow Company. La prova. Chi guida la Shadow? Voglio un nome. Philip Graves. Phil Graves. Tenebroso. Mi gusta? Questo... Graves... che cosa vuole? l'iraniano vuole Hassan. Come fa a saperlo? Non puoi fidarti di lui. Non puoi! Dammi retta! Tu non ci hai detto un cazzo, imbecille! Ti paghiamo bene, eppure lo straniero ne so più di te. Facciamo fuori questo bastardo inutile. Con piacere, Valeria. Ti prego, Valeria. Che bonita. Bel lavoro. Non male. Mettiamoci al lavoro. Andiamo di sopra. Muoviti, Guero. Ficcatelo in testa. Con te non abbiamo finito. Se il nombre deciderà la tua sorte, datevi da fare, cavrones. cavrón. Attico. Los Vacheros si muovono velocemente. Io sarò nell'attico con Elsie in nombre. Quando vedrò Elsie in nombre, adesso Valeria deve parlare con il boss. Tu aspetterai con gli altri. Ho la sensazione che Elsie in nombre sarà molto interessato a parlare con te. Tu aspetti qua, Soop. Io sarò nell'offrenda. Niente interruzioni. Va bene, cappo. ci ho già pensato io. Ti aspettano fuori. Ok. Dategli una maschera e sorvegliatelo. Sei vivo. Sei vivo. Alejandro, sei vivo anche tu. Il sin nombre è nell'attico. Secondo piano. Servirà un tesserino. Ce l'ha Diego. Diego. Tieni questo. Benone. Prendi. Una maschera. Non tutti possono farsi vedere col cartello. Contatto radio. Mi senti? Ti sento. Perfetto. Andiamo. Ghost. Ci siamo. Cosa abbiamo? Il sin nombre è nell'attico. Secondo piano. L'ascensore è la via migliore. Basterà il tesserino di Diego. Dov'è Diego? L'offrenda. Primo piano. Vedi niente, tenente? Se capisci com'è arrivare sul tetto, c'è un accesso all'attico. Comunque sia, devo salire. Cuidado, hermano. Se le guardie ti beccano là o nel garage, ti spareranno a vista. Cosa c'è nel garage? Non so. Ma Diego ci tiene molto. Proviamo il sin nombre e facciamola finita. Chiudo. Hago che informare? A chi dopo incalmare. Sì, vedo. Tengan cuidado allà fuori. Il sin nombre tiene alguna respuesta allà? Sabemos quién organizò questo? Todavía no. Estaban bien equipados. Quizà los gringos. Gringos de mierda. Nos pisan el cuello y esperan que luego les agradezcamos. Por un minuto. Muchas gracias. Si es en serio. Número de cuenta 0919014. Alguna novedad? Nada por aquí. Descopio. Hecho. ¿Es entendido? Estaban bien se no se si pone servicio. Ho trovato un coltello da lancio. Bene. Ti aiuterà a non farti scoprire. dovreste poter salire sul garage dai condizionatori a una bottiglia utile per distrarre le guardie non lasciare in giro quel coltello c'è una sporcienza sopra di te ho trovato un'arma questa è un'area pietata le guardie sparano a vista sono al primo piano diego è all'offrenda dovrebbe essere su questo piano ricevuto riesco a vederti johnny fuori c'è un gratticcio con cui puoi salire fino al tetto e il tesserino di diego decidi tu ho trovato una bottiglia utile come diversivo alejandro ho trovato diego ricevuto si signore rispondimi dai ascolta ho un lavoro per te rispondimi mischi a continuare risponde adelante delle dima cosa c'è tutto 2005 l'acomp Snapchat 25 a a 우� Sì. morto. Bravo Carnal. Prendi il suo tesserino, svelto. Ho il tesserino. Bene, troviamoci all'ascensore. Zop, hai compagnia? Vattene subito da lì. Occhio, hanno trovato un corpo. Ok, qui sei sicuro. Sì signor, lo faremo. Le guardie sanno che sono qui. Siano tranquillo, non danno l'allarme generale. Hanno trovato una guardia, attento. Ok, andiamo. Ci siamo, hermano. Da anni si innombra e corrompe la città. Ha dato il suo nome ai demoni. Occhio la riprenderemo. Adesso mai più. Sì. C'è un varco della sicurezza. Come facciamo a passare? Identificazione? C4. Ho il prossimo ospite per il boss. Microcamera pronta. Diamo un volto al senzalume. Il carico dalla Spagna è arrivato puntuale. Le assicuro che i miei uomini concluderanno l'accordo e che la merce sarà recapitata. Sin nombre. Estas preparado para otro incitante. Buon viaggio. Bene. Iniziamo. Non ci credo. Che c'è? La sicaria che ho incontrato di sotto. Valeria. E lei è il sin nombre. Valeria? Ne sei sicuro? Sì. Andiamo. Graves, sin nombre si spaccia per una sicaria. Entriamo. Ci siete? Sì. Ghost. Pronto. Prendila viva. Pronto. Prendila viva. Sì. E' scappata sul retro! Non deve fuggire! Non freddo ordini da nessuno, idiota! E' il sin nombre! Mi chiamo Valeria! Nascosto in piena vista! Nascosto! Io sono dappertutto, capito? Perfetto. Anche noi. Via! Hermano! Che ti prende? Valeria! La conosco! Giù! Quindi come vi conoscete? Conoscere è un parolone. Ma le parole sono molto importanti. Rappresentano il nostro valore, no? E' la verga che è la putta che tu vuoi ammattare! Calvado, comandante! Sì! Sì! Vamos! Diggielo! Io non prendo più ordini. Neanche i cani di La Salma s'abbaiano contro di me. Era esta? Era nell'esercito. Eravamo con militoni. Squadre diverse. Stessa unità. Voi eravate quelli ruzzi, no? Los Vaqueros. La mia squadra rigava dritto, signore. Sì, signoras. Fino al raid contro il figlio di La Araña. Ti acquerdas? Ricordo benissimo. I suoi dovevano tenere fuori dalla città i sicari di La Araña e impedire un massacro. Ed è quello che abbiamo fatto? Certo, perché eravate voi i suoi sicari. È stato scortato in montagna senza incidenti. Abbiamo impedito il massacro? Doveva finire in galera. L'hai ucciso. è sostituito. Ho creato un vuoto di potere. E l'ho colmato. Servo alla Salmas? Alla Salmas? Servono soldati. Non sicarios. E usted sei un disonore per l'esercito. I tu sermanos, no? Perché lo fai? Beh, dimmelo tu. Sei un mercenario, no? Se non lo fai tu, lo fa la concorrenza. Sei dei narcos e nascondi un terrorista. Il terrorismo già vagli a fare. È un'assicurazione. Che cazzo significa? Puoi saccare la puta cabeza del culo fuori un secondo! Putta male, Alejandro! Finché ci sarà la guerra al terrore, non ci sarà mai una guerra alla droga. Volete quel cosiddetto terrorista? I missili. Quindi vi servo. Per impedire un massacro. No, non ci sto. Non cambia niente. Cambia tutto, invece! Cazzo! Non fate accordi con lei. Finirà male. Adesso devi raccontarci la verità. Voglio i missili, voglio il bersaglio e voglio Hassan. Ti do dieci secondi, poi vedrai la differenza che c'è tra i metodi dell'esercito e i miei. Posso dirvi dove trovare i missili? Al vostro ritorno. Vi dirò dove si trova Hassan. In cambio, mi lascerete andare e non romperete le palle alla Salmas se me la arganchia. Bene. Fino ad allora, resterai qui. Secondo le informazioni ottenute, c'è una piattaforma a 400 miglia nautiche a largo del colpo del Messico. La piattaforma non è attiva ed è usata dai contrabbandieri del cartello come punto di scambio. Un cargo è ancorato a 500 metri a nord-ovest da lì. L'intelligence conferma lo spostamento di un container dalla nave alla piattaforma. Adesso il container è in cima alla piattaforma. Crediamo che questo sia il missile. DF-141, il colonnello Vargas e la Shadow Company si infiltreranno con tre squadre per abbattere i due bersagli. Ghost condurrà l'assalto alla nave. Graves, Soap e Alejandro penseranno alla piattaforma e al missile. Troverete forte resistenza. Avete ordine di eliminare qualsiasi minaccia. Perdo la piattaforma! Là c'è il bersaglio! Da uno e due, dai punti d'aggancio! Uniamoci alla festa! A tutte le unità, a nave in vita! Ricevuto, pronti e lasciato! Rimaniamo in contatto! Se Valeria ha ragione, saliamo, entriamo e disarmiamo il missile! E se ha mentito? Spero di no! Che Dio ci aiuti! Può essere una trappola! Occhi aperti! Tutto pronto, Carlo! Ricevuto! A lavoro! Buona gaccia! Ci siamo! Shadow, il missile è su questa piattaforma! Isoliamola completamente! Ok, 3D alcatralla all'interno! Sto entrando! Sto! Buona gaccia!